Bentornati e bentornate qui su Heller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Heller e oggi parliamo di Mollami, gue al festival di Sanremo. E se volete saperne di più, ovviamente non vi rimane altro da fare che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti e tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. E la meno rimane come a darvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla. Bene ragazzi, non possiamo più chiamarlo Gue Pechegno, in quanto non è più Pechegno. E quindi lo chiameremo solo Gue, come desidera lui. Questo nuovo disco in realtà è tutto old style, pensato, immaginato e soprattutto scritto insieme al suo produttore, anche egli, insomma, della vecchia scuola, Bassi Maestro, con il quale ha scritto questo nuovo disco. In realtà credo che abbiano scritto un botto di brani, hanno scelto i migliori, e in effetti questo Mollami ci farà ballare per tutta l'estate. Ragazzi, molto bello. La partecipazione al festival, in diretta dalla Crociera, dalla Costa Crociere, dalla nuova Costa Crociere, molto molto carina, party in piscina, quindi anche quello molto old style. Insomma, ci sono tanti richiami alla vecchia. Gue ha voluto seguire molto poco le tendenze per questa nuova creazione, per questo nuovo album. Molto bello anche il look, mi è piaciuto veramente tanto, Total Red. Veramente molto molto carino alla scelta. Di solito non mi piace molto il look con cui si propone, questo però, devo dire, azzeccatissimo, perlomeno dal mio punto di vista, molto molto gradito. Ragazzi, fatemi sapere se vi piace Gue, perché non possiamo più chiamarlo Pechegno. Qui sotto nei commenti, aspetto di leggervi, mi raccomando, potete esprimere la vostra libera opinione, ma sempre con tanto rispetto nei confronti miei che vi do lo spazio di esprimervi liberamente, nei confronti di chi vi legge e vi ricordo che tanti e tanti ragazzini sono quelli che frequentano YouTube e soprattutto nei vostri stessi confronti che lasciate commenti che siete gli unici responsabili di ciò che scrivete. Se questo video e la rubrica di Sanremo vi piacciono, vi chiedo di lasciarmi tanti e tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi il solito bacio e darvi appuntamento al prossimo video con tanto ma tanto amore. Mollami! Ciao!